Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti in direzione nord tra BV1 Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. In carreggiata opposta, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Aglio e BV1 Variante. In Fipili scende a 1 km la coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra in direzione mare. Sulla stessa carreggiata segnalamino oltre coda in uscita alla Strassigna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Prudenza per pioggia su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Ultima pagina per il traffico ferroviario regionale 23383, la Spezia Centrale Firenze-Santa Maria Novella sta viaggiando con 26 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione al momento previsto alle 16.33, salvo recupero. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!